Ciao a tutti, ci hanno chiesto di spiegare come si fa a creare un evento live sui Twinning Live ed è molto molto semplice. Una volta fatto l'accesso al portale, quindi con le proprie credenziali, si va a The Twinning Live, alla sezione Twinning Live e quindi nel proprio profilo. The Twinning Live, vedete sotto la scritta The Twinning Live al logo di The Twinning, c'è il pulsante, la voce di menu, eventi. Non fate altro che premere su questa voce di menu e poi vedete che visualizzate un pulsante Crea un evento. Crea un evento, una volta premuto il pulsante Crea un evento, vi si apre una pagina con dei campi vuoti da riempire. Il primo campo è il titolo, questi sono campi obbligatori, quindi dovete necessariamente riempirli. Ora io ci metterò una X per praticità e una X anche nella breve descrizione. Ma indicativamente, se si tratta di organizzare una riunione fra partner, vi direi di specificare per bene il contenuto e comunque indicare un titolo che sia facilmente riconoscibile. E non avete un limite minimo, avete soltanto un limite massimo, quindi potete anche essere molto sintetici. Premete l'opzione Event Online, perché state organizzando un evento online. E andate avanti nella prossima tappa. La prossima tappa vi richiede l'inserimento di una fotografia o di un'immagine. Voi non fate altro che inserire un'immagine qualsiasi, un'immagine rappresentativa dal vostro PC. Ho inserito il nostro logo, il logo di Twin in Toscana. Indicate poi in che lingua volete che si svolga la videoconferenza. Quante persone potranno partecipare, quindi supponiamo che sia una riunione di progetto. Potrebbero essere fra le 2 e le 10 o fra le 11 e le 25, mi sembrerebbe anche sin troppo, ma insomma fra le 2 e 10 persone. E che tipo di, dovete indicare che tipo di evento state organizzando. Sessione di formazione, altro, promozione e diffusione. Diciamo che se si tratta di una riunione potreste premere altro e passare avanti. Chi può partecipare? Io in questo caso, visto che si tratta di una riunione ristretta, selezionerei i soli miei contatti. E poi in seguito all'interno dei miei contatti inviterei le persone che mi interessano in particolare. Poi come durata di tempo avete la possibilità di scegliere fra 30 minuti e un'ora e mezzo. Diciamo, poniamo che mettiamo un'ora di durata e poi a quel punto scegliete la data. Potete scegliere un mese qualsiasi e poniamo il 19 novembre e su questa data a un certo punto potrete individuare le slot orari liberi. Quindi ad esempio mi interessa di fare questa riunione dalle 18 alle 19. ipotesi, perché insomma vedete che avete, sulla base della durata che avete indicato qui, avete degli orari conformi. Ok? Quindi fra le 18 alle 19 e il 19 novembre. In questa parte posso invitare chi voglio. Quindi io insomma inviterò, 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 inviterò uno degli ambasciatori della Toscana, cioè Simone Bionda. E però posso invitare anche altre persone naturalmente, purché fra i miei contatti. Qui indicherò che voglio utilizzare sia il forum che la cartella di file. E poi mi ritroverò all'anteprima. L'anteprima praticamente mi fa vedere sinteticamente tutti i dati che ho inserito. E una volta controllato che tutto sia corretto, io posso volendo anche tornare agli step precedenti. E arrivare fino allo step che voglio modificare. Senza perdere comunque quello che ho indicato fin qui. A quel punto quando siamo a posto, premo il tasto invio e l'evento viene creato. A questo punto andremo per controllare ai nostri eventi e vedremo i prossimi eventi, gli eventi in programma. Noi avremo fra gli altri anche il mio evento X, che chiaramente non si chiamerà X ma si chiamerà in un altro modo. Fatto questo, la cosa importante è che possiamo sia cancellare gli eventi, ecco per esempio adesso vi faccio vedere come cancellarlo. Ricordandovi che è un passaggio irreversibile, quindi non si può tornare indietro. Che entrare nell'evento e aggiungere partecipanti, cioè controllare sia quali sono i partecipanti, in questo caso ci sono solo io. Oppure invitare dei contatti. L'importante appunto è che noi invitiamo dei contatti oppure aspettiamo che gli altri trovino l'evento. Non è così fondamentale, però se si tratta di una riunione è opportuno magari che li invitiamo noi. Cosa succede? Noi poi chiudiamo. Quando arriva il giorno prima dell'evento, quindi ho fissato un evento per il 19 di novembre, io posso accedere alla sessione, nel senso io che sono l'amministratore della videoconferenza, posso accedere alla sessione 24 ore prima dell'evento. Quindi se ho fissato l'evento alle 18 del 19 novembre, alle 18 del 18 novembre potrò accedere e andrò, premerò, rifarò tutta la procedura, entrerò dentro i Twinning Live, dentro gli eventi, troverò il mio evento e poi andrò sul Live. E in quanto ospite dell'incontro, mi dice Adobe Connect, potrei entrare nella sala 24 ore prima per preparare la sessione. Una volta entrata nella sessione è molto semplice, possiamo caricare file, possiamo caricare, possiamo accendere la webcam, possiamo accendere l'audio, possiamo a tutti gli effetti svolgere una vera e propria videoconferenza. E i nostri interlocutori, quelli che noi abbiamo invitato, potranno collegarsi 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'incontro e da quel punto in poi ci sarà il tempo che avete deciso per fare la riunione che potrete anche registrare e sbobbinare in un secondo tempo, quindi anche tenere come archivio o comunque se fate un webinar, metterlo online, disponibile e condividerlo. D'accordo? Se avete questioni, vi preghiamo di rivolgervi all'indirizzo e-twinningtoscana-gmail.com e ne vi risponderemo. A presto, grazie.